Il cambiamento è che andiamo ad affrontare un argomento molto importante che è quello dell'urbanizzazione e dello sviluppo urbano in Africa. Questo aspetto è molto importante peraltro come lo era prima, però prima ci si concentrava su quello che era lo sviluppo rurale. Ora sono importanti entrambi, i governi, le persone fanno dei piani a livello ambientale e i governi incoraggiano anche il settore privato ad assumere un ruolo sempre più attivo in questo ambito. Però per consentire lo sviluppo urbano occorre concentrare le proprie attenzioni anche su quello che è lo sviluppo delle infrastrutture che sono fondamentali perché avvenga l'urbanizzazione. In realtà l'Unione Africana ha come priorità proprio lo sviluppo del continente perché ci sia interconnessione, relazione. Lo sviluppo deve essere sia a livello rurale che urbano, a livello di persone, di abitanti, di vita sociale. Quindi non c'è assolutamente conflitto sul fatto che ci si concentri sul sviluppo urbano, rurale. Sono entrambe per noi delle priorità. Grazie mille. Grazie mille. Grazie.